Ciao, sono la dottoressa Diana. Sai che una carenza di ferro può favorire la caduta dei capelli? Il ferro è infatti uno dei principali minerali che compongono i capelli ed è anche quello responsabile dell'ossigenazione dei tessuti. Per cui una carenza di ferro può rendere i tuoi capelli più deboli e sfibrati proprio perché questi vengono privati dell'ossigeno e anche di alcune componenti fondamentali come il ferro e le proteine. Inoltre la carenza di ferro si accompagna anche ad altri sintomi come per esempio sensazione di stanchezza generale, pallore, irritabilità ed anche frequenti mal di testa. Per compensare però questa carenza puoi procedere in due diversi modi. Il primo è quello di incrementare il consumo di alimenti ricchi di ferro come per esempio la carne rossa, il pollo, i legumi, in particolare i ceci, i fagioli bianchi e le lenticchie ed inoltre anche la frutta secca, il cacao ed il cioccolato fondente contengono una buona quantità di ferro. Inoltre per favorire l'assorbimento di ferro ti puoi aiutare anche con del magnesio ed evitare i cibi come il tè, il caffè e un eccessivo consumo di latticini perché questi possono al contrario andare ad inibire l'assorbimento di ferro. In alternativa oltre a seguire un'alimentazione corretta puoi aiutarti anche assumendo degli integratori. Ciao e al prossimo consiglio!